Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. In A12 incidente tra il bivio A12 raccordo A11 Firenze Pisa e Pisa Centro in direzione Livorno. In A1 per lavori in direzione Bologna, corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in entrambe le direzioni. In A15 per lavori possibili ralentamenti tra Pontremoli e Verceto in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis Tiberina per lavori sono chiusi gli svincoli Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info